comunque oggi mi è arrivata questa letterina e allora in poche parole io inizialmente non leggerò il cognome perché lui non lo dice però comunque inizialmente leggo a quindi cognome e poi simone dico ma che cazzo è questo c'è subito non ho anche perché quando mi è arrivata la letterina io stavo dormendo la portata mia madre io stavo dormendo quindi mi sono svegliato con questa letterina verde in mano ho aperto e ho visto simone ma chi mi chiesto simone mi aspettavo che cazzo ne so ciao tokyo ciao bello mio mi aspettavo un saba non lo so però un simone effettivamente poi ci è venuto in merito cicalone comunque è la controversia contestata è uso in debito di riproduzioni audio video coperte da copyright quindi questo quali video si riferisce ci sarà il link il titolo del video la piattaforma niente non c'è scritto nella piattaforma nel link niente ci sono scritto per copyright quindi questo ha utilizzato un mezzo che di solito viene utilizzato per le diffamazioni per far querele comunque mi ha mandato questa lettera per dirmi che ho indebitamente riprodotto audio video coperte da copyright cioè capite a che punto sia cicalone ma veramente stiamo a fa cioè questa la domanda è tu hai in francia hai parlato con l'avvocato io ho parlato con l'avvocato ovviamente lui mi ha chiesto ma tu hai mai fatto vedere spezzoni molto lunghi dei video di cicalone chiaramente ragazzi io e palle uomo ve lo ricordiamo sempre sul mio canale ormai un vecchio un video datato ma lo potete anzi moderatore lo puoi andare a cercare così impari un po come funziona ma io capito io non ci credo che cicalone lo sappia magari l'avvocato e che mi risulta si occupava d'altro poi avrà come dice catania dipende da che città alcuni sono un po multitasking altri si specializzano di solito a roma ci si specializza però ok e magari l'avvocato non sa bene come come funzioni ma cazzo cicalone ci lavora dovrebbe sapere non abbiamo detto una parola magica fair use qualcuno l'ha scritto in chat sapete cos'è il fair use ragazzi se non lo sapete potete andare a vedere questo video un'altra cosa che un po non capiscono tu ricordi la live di gallotti e quella con cicalone certo sì quando quella dove dove non dove non abbiamo parlato ma era questa comunicazione un po strana chat voce e lui lì aveva detto che gli era stato segnalato da alcuni ma lui ancora doveva verificare o pisa cazzata in italia esiste il fair use assolutamente una cazzata quello che è scritto tra l'altro informatevi veramente non tra l'altro si parla di twitch e youtube indovinate dove dove sono twitch e youtube quello che volevo dire semplicemente che al di là che voi sappiate o meno che il fair use esiste come anche in italia al di là di tutto ovviamente anche con ognuno di voi qua anche in chat ha il diritto di prendere un video di cicalono di chi cazzo vuole di un personaggio pubblico e pubblica su una piattaforma pubblica e commentarlo ovviamente avete tutto il diritto di farlo si chiama diritto di cronaca se vogliamo dirlo in italiano poi scusa ma ti è stato segnalato su youtube no bravo fai una domanda non mi è arrivata è proprio quello ci sono dei mezzi che vuoi utilizzare su youtube che lui ha utilizzato quindi forse si riferisce a twitch però ti può segnalare anche su twitch anche su twitch esatto tra l'altro lui mi aveva detto all'epoca della live che non è scritta in quella lettera io purtroppo ho dovuto leggerlo tant'è che l'avvocato mi ha detto gli chiederemo anche questo ovviamente io ho già contattato l'avvocato catania risponderemo a questa lettera perché assolutamente sarà un po' sorpreso c'è di sicuro a voi l'avvocato catania anche è stato meno severo di noi ha giudicato molto più legit l'ultimo video che abbiamo commentato quindi insomma sarà felice di interfacciarsi però capisci con quella cosa pure diceva mi hanno detto che mi ha diffamato io mi tutelo io mi tutelo no io pensavo che arriva una lettera del genere per un eventuale diffamazione che io credo non ci sia mai stata eh esatto lui mi aveva detto ma fosse fosse capò che boc mi aveva avvisato che mi avrebbe avrebbe contrattato i suoi avvocati per accusarmi di diffamazione non dico cioè non sul copyright poi si sa mai magari fra dieci giorni unici giorni mi arriva anche la letterina eh riguardante le diffamazioni però che cazzo scusa ne manda una non manda l'altra e infatti sarebbe strano però effettivamente anche questo visto che in questo caso comunque non è che si è rivolto a uno specialista di diritto d'autore da che mi risulta e attenzione potrei sbagliarmi mi pare che si occupi di altro l'avvocato che ha scelto sì 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 quindi non è che dice vabbè ora per quello ora cercherà qualcuno che è più specializzato in diffamazione non mi sembra ci sia stato questo sforzo per sta lettera immagino che sia il suo avvocato di fiducia questo che tra l'altro è una lettera che invita a una negoziazione mamma mia costezza così negoziazione esatto negozieremo negozieremo il cicalone e vedrete che la porteremo a casa capisci se uno fosse malizioso e non lo sono assolutamente uno malizioso non io potrebbe pensare che non trovando nulla per cui insomma tutelarsi in quanto diffamato avrebbe detto vabbè sa che c'è quasi quasi anche io l'ho pensato allo stesso modo nel senso che quando lui diceva che non è un rimasto che ci aveva sbloccato che ci si scriveva e invece c'è purtroppo la pace è già finita la pace è già finita comunque detto ciò io non sono chiaramente minimamente preoccupato lo potete vedere per chi mi segue su Instagram dalla mia storia dove dormo amabilmente e quella è la cosa cioè io questa roba qui non me la sarei mai aspettata capito in debita riproduzioni di audio video coperte da copyright cioè questo sinceramente mi ha lasciato abbastanza come si dice sterrefatto cioè boh che cazzo fai una lettera da un avvocato per una cazzata del genere che ripeto puoi benissimo fare guarda da un lato sono anche contento perché su YouTube tu sai bene parli uomo che con lo staff ho avuto anche qualche problema su segnalazioni di questo tipo perché ma basta parlare con chiunque incluso Cicalone abbia esperienza di video di YouTube insomma i mezzi ci sono esatto ma sembra proprio capito dici guarda sai che c'è perché poi io so curioso di sapere questa negoziazione doveva apparare cioè c'è bisogno di una negoziazione per dire guarda rimuovi il video perché mi infranto il coperno secondo me verrà richiesto qualcosa insomma per apparare il danno ma cosa vuoi dire uno che non vuole cioè Cicalone che non mi voglia bene Cicalone è abbastanza evidente quindi dire magari non voleva rovinarmi il canale mi sembra abbastanza poco probabile cioè a me sembra che lui volesse proprio rompermi i coglioni per cui forse voleva rompermi ancora di più invece ma magari lui è genuinamente convinto di essere dalla parte del giusto insomma ha tutti i diritti di procedere come vuole però ci farà perdere un po' di tempo a tutti perché tanto ragazzi io adesso non voglio cantare vittoria prima ancora di però voglio dire io sono sicuro dei contenuti che abbiamo portato giustamente l'avvocato mi ha chiesto ma voi pensate di aver potuto fare una roba nel senso avete riprodotto sui video senza commentare ovviamente no cioè io e Pallewuomo abbiamo sempre anzi come già giustamente Pallewuomo prima ma di dove facciamo i replay a rallentator cioè andavamo proprio a sviscerare il contenuto per andare a vedere cosa succedeva perché siccome il Cicalone non fa mai neanche un taglio nei video e questo è piuttosto da zero zero totale e quindi ogni tanto andavamo un po' indietro a capire dove ci poteva essere un taglio cosa poteva mancare quindi proprio c'è i contenuti di Cicalone erano quelli meno attaccabili Cicalone è una persona scherzosa, manda affanculo scherzosamente, mette nomignoli scherzosamente dice anche cose non vere in live scherzosamente no perché ricordiamo quella cosa del non mi hai mai scritto in privato fai solo le storie perché vuoi visibilità era falso, l'ho dimostrato abbastanza facilmente però dai bene così